Questa è la stazione di Antonito, dove parte il treno che arriva fino a Ciamat, il treno va fuori. Chissà se Stine riuscirà a salire sulla carrozza presidenziale, essendo minorenne, poverino, non può bere, non può salire sul treno, gli capitano tutto a lui. Questa è la piana di Antonito, in Colorado, dove siamo appena partiti, col treno a vapore, con la destinazione Ciamat, in New Mexico. Ecco Steve, grazie a un paio di occhiali da sole e scuri, è riuscito a mimetizzarsi. Se non lo dicevi, è un'altra barga. La villina è la più vicina. Guarda l'altra posterina. Guarda l'altra. Sì, guarda. Guarda l'altra. Sì, guarda. 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 c'è chi si mette un paio di occhiali da sole per avere più carisma e fantomatico stiamo viaggiando in cima al kenya questo era parlo all gatti, la che fin è presidenza Bob here and sub let and he had 13 siblings that all grew up here they would take the train into town on Sunday morning or Sunday night sorry to go to school and stuff and they would stay until Friday night and take the train and then came back out for the weekend. They would stay with friends and family down in Antonitos. They would stay with us. ecco il tunnel il tunnel tira dentro la testa Ricky il tunnel il tunnel Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' l'ultimo che abbiamo passato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.